Amici e software libero open source, benvenuti o bentornati in questo nuovo video dedicato a una notizia flash che di sicuro farà felici molti di voi all'ascolto perché finalmente su Ubuntu 24.04 LTS è possibile installare i pacchetti in formato DEB semplicemente facendoci doppio clic su di loro senza andare a installare altre applicazioni quindi sfruttando l'app center di Ubuntu. Questa funzionalità non so se ve la ricordavate era presente sulle vecchie versioni dell'app center poi è stato introdotto il nuovo app center scritto in Flutter che aveva perso questa capacità quindi noi eravamo costretti su di Ubuntu sull'ultima versione di Ubuntu a andarci a riscaldare qualche altro tool tipo GDB per poter installare graficamente pacchetti in formato DEB facendoci doppio clic su di loro. Il team di Ubuntu evidentemente ci ha ripensato e ve ne avevo parlato già qualche mese fa lo scorso maggio vi avevo detto che il team di Ubuntu era a lavoro per ripristinare il supporto ai pacchetti in formato DEB all'interno dell'app center funzionalità che sarebbe dovuto arrivare su Ubuntu 24.10 quindi sulla prossima versione semestrale invece a quanto pare hanno deciso di anticipare il tutto e di fare il backport di questa funzionalità anche per Ubuntu 24.04 VTS cosa buona e giusto. Quindi adesso vi faccio vedere se noi andiamo a installarci che ne so il pacchetto di only office si viene aperto direttamente dall'app center e possiamo andare a installare. Ovviamente ci sono tutti quanti i warning del caso questo è potenzialmente non sicuro e quant'altro. Ovviamente è una scelta da parte del team di Ubuntu per salvaguardare la sicurezza degli utenti. Sconsigliano quindi di installare applicazioni di terze parti in formato DEB ma di dedicarsi solamente di installare solamente applicazioni presenti dagli repository di Ubuntu o applicazioni presenti sullo snap store. Ovviamente loro cercano di spingere lo snap store quanto più però c'è molta gente che continua a utilizzare il pacchetto in formato DEB ma semplicemente se vogliamo installarci che ne so Google Chrome, Edge, Brave, anzi non Brave perché c'è i repository. Tantissime applicazioni sono disponibili in formato DEB, driver di stampanti, driver di scanner e quant'altro. Quindi c'è gente che utilizza applicazioni in formato DEB che scarica applicazioni in formato DEB ed è giusto che queste applicazioni siano facilmente installabili anche da chi non è avvezzo all'utilizzo del terminale. Quindi meno male che ci hanno ripensato e meno male che hanno rintrodotto questa funzionalità. Quali sono le criticità però di questa funzionalità? Come è stata introdotta? Come avete modo di vedere consente soltanto l'installazione per adesso dei pacchetti in formato DEB. Se noi, che ne so, ci facciamo clic nuovamente sul nostro pacchetto in formato DEB e vogliamo andare a reinstallare il pacchetto, non troviamo nessuna opzione. Così come non troviamo nessuna opzione per disinstallarlo. Quindi una implementazione a metà. Però già fa piacere che questa funzionalità sia stata introdotta. Speriamo che venga migliorata successivamente nei prossimi mesi e che dire? Beh, meno male che ci avete ripensato. Bravi canonical. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci rivediamo in un prossimo video dedicato al mondo del software libero pensoso. Oggi ci troviamo nelle nuove puntate del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!